Il giorno di Inter-Roma, big match della settima giornata del campionato Primavera 1. Zalewski sovrappone Calafiori, Bove apre proprio per Calafiori il cross sul primo palo e arriva il gol della Roma con Estrella che porta avanti i giallorossi al sedicesimo minuto. Estrella, sul primo palo Estrella, Estrella col tacco, Darboe, 5 maglie giallorosse, 6 maglie giallorosse pronte al contropiede. Providence, pallone sul secondo palo per Estrella che la mette giù, poi prova il mancino e arriva il raddoppio della Roma ancora con Estrella. Raddoppio della squadra di De Rossi, altro bel gol, altro gran gol di Estrella col colpo di tacco per Gianelli. Ancora Fonseca, prova al numero 11, tocco centrale per Schierocco, un po' di spazio, occhio a Schierocco e calcia! E la riapre il capitano, la riapre Thomas Schierocco che trova il gol dell'1-2 alla mezz'ora. Eccola la scossa che serviva all'Inter, la trova con il suo capitano, con un calcio di rigore in movimento. La incrocia col mancino, squizzato, elude il pressing di Riccardi e poi va bene da Colombini. Torna Zaleschi su di lui, chiude la traccia di passaggio Riccardi, Zaleschi è timido, Colombini ruba questo pallone, entra in area di rigore, il pallone al limite per Fonseca! Arriva subito il pareggio dell'Inter, ancora Mattias Fonseca! Grande giocata di Colombini, bravissimo a leggere l'azione e a trovare a rimorchio Fonseca. Che col piattone, fulmila Cardinali sul suo palo! Bucata centrale per Bove, ancora Providence che entra in rigore, salta sottini, occhio a Providence, il cross in mezzo! Arriva il gol del 3-2, ancora Estreia, tripletta! Altra buono sprint di Providence, cross sul secondo palo, dove tutto solo però, Estreia, Galeazzi. Primo pallone toccato dal senegalese, prova a chiudere il ritorno con Riccardi, vince anche il rimpallo, occhio a Tal che entra in area di rigore. Tal può andare al limite, arriva il gol del 4-2 della Roma, che chiude virtualmente il match. Arriva il poker, pallone per Simonetti. Pallone nel cuore dell'area di rigore, arriva Tiss, la sfera rimane lì, sottoporta! E Cardinali fa un miracolo! Non c'è più tempo, finisce qui, vince la Roma, 4-2. Non c'è più tempo, finisce qui! 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 Grazie.